Cari amici di LumaFusion Italia, benvenuti in questo nuovo video dedicato agli effetti speciali. Lo so, lo so, mi sono rimangiato la parola data la volta scorsa dove ho detto non mi porterò mai effetti, non me li chiedete neanche pagandomi. Invece ho deciso di iniziare una serie di episodi. Iniziamo in questo video a fare uno zoom molto semplice con la distorsione che troviamo appunto negli effetti di LumaFusion tra due clip. Vi comunico che i preset che farò saranno in vendita per chi non se li vorrà creare seguendo questo tutorial a 1,50€ sul sito LumaFusion Italia.it o LumaFusion.it. Inoltre metterò in vendita anche gli altri due effetti che avevo fatto in precedenza, le quattro clip sullo schermo contemporaneo e le nuove clip sullo schermo contemporaneo. Questo così se volete dare una mano al mio canale a crescere, ovviamente andare avanti, a fare questo, a portarvi ovviamente contenuti sempre migliori. Vi invito a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto e azionare la campanella se volete ricevere le notifiche. Ma adesso andiamo a vedere ovviamente cosa abbiamo prodotto. Ok, in questa prima parte andiamo a analizzare il comando, il preset come vogliamo chiamarlo, pitch che si trova negli effetti sotto la voce o sotto l'iconetta distorsione. Anzitutto andiamo a caricare un file media perché è quello che ci servirà, perché sennò non possiamo vedere nulla. Ne prendiamo uno a caso, spero. prendiamo questo sempre il solito bicecchettaio e andiamo a dare due tappe sulla nostra clip. Andiamo sugli effetti, ci sono già, e ci direchiamo nella distorsione. Vedete, questi sono tutti gli effetti, diciamo, non pronti, non sono pronti all'uso, ma sono editabili. Quindi andiamo a cercare il comando pitch che è in fondo, in fondo, a me tu piaci, te. Quindi andiamo nel comando pitch, eccolo qua, e non facciamo altro che tappare sul primo. A noi serve questo. Per andare a vedere i parametri, cioè cosa possiamo utilizzare tutti, tutta la serie di questi effetti hanno questi parametri, tutti editabili, ovviamente ognuno ha il suo. Io vi farò vedere questo per creare uno zoom, ok? Tra una clip e l'altra. Quindi, analizziamo il primo parametro. Questo, vedete, effetto una distorsione, ok? Così. Il secondo effetto una scala, a seconda del parametro di distorsione. Però se io lo metto a zero, la scala avviene senza distorsione, ok? E questo invece è quanto deve essere applicato l'effetto, cioè la sfumatura dell'effetto. Se io lo metto a zero, mentre l'effetto non ha effetto. E invece se lo metto a metà, l'effetto è a metà, ok? Vedete che io lo metto a zero perché voglio che l'effetto si veda tutto. Abbiamo un altro parametro importante, però, che è questo qui. È il, praticamente, il centra, ok? Che si muove in questa maniera. Io prendo questo pallino blu e lo sposto così. Cosa significa? Significa che, per il mio effetto, partirà da dove io posizionerò questo pallino, eh? Ok, guarda, state a vedere un po'. Vedete che adesso zooma lì, ok? Prendo il mio pallino, lo punto sulla testa del paolo ciclista. Vedete che lo zoom avviene lì. Quindi, cosa significa? Che se io ho una parte nera in questo filmato, una parte bianca, una parte blu, quella che è, posso, ovviamente, far partire il mio zoom nella parte che voglio e andare a finire nell'altra clip se, in qualche modo, avessi lo stesso colore o lo stesso oggetto. Ok, piantiamolo al centro. Perfetto. A questo punto andiamo a creare uno zoom in e uno zoom out. Rifacciamo la stessa cosa, vi faccio vedere il passaggio così lo ritrovate. Dovete andare in effetti distorsione e andiamo alla voce pitch. Ok, pitch. A questo punto io metto tutti i parametri a zero perché non voglio che si distorga nulla. A questo punto devo fare un zoom in, praticamente partire da questa vista qua e andare a zoomare il mio ciclista, povero ciclista. Quindi vado qua, faccio così, vado all'inizio del mio frame, ci schianto una bella chiave, ok, e vado alla fine della clip. Non importa quanto si allunga la clip, ok. Ora faccio una zoomata dove voglio. A questo punto devo capire più o meno quanto far uscire la mia schermata. Io andrei fino a qua, ok, fino a dove l'UmaFusion ci... No, un po' più o più, ok, così. Perfetto. A questo punto andiamo a memorizzare questo effetto come zoom in. Ok, possiamo anche andare a verificare se, ovviamente, io non abbia fatto qualche castronata. Ok, vedete? Ok, lo zoom in avviene. Perfetto, lo zoom in avviene. A questo punto vado alla fine della clip e vado a levare le chiavi, cliccando sul prima, ok, qua. Vado indietro all'inizio della clip e do, ovviamente, la prima posizione come l'ultima chiave che abbiamo memorizzato nella parte precedente del video. Vado alla fine, ok, e tiro indietro la mia scala. Quindi, vedete che adesso io ho memorizzato praticamente la fine del, diciamo, dell'effetto precedente che, ovviamente, ingrandiva e fino a rimpicciolirlo. Andiamo a, ovviamente, a salvarlo come zoom out. Ok. Zoom out. Perfetto, zoom out e andiamo a schiacciare sulla, sulla stellina. Se vado adesso all'interno, qui, vedete, mi ritrovo qui. A questo punto posso andare a cancellare il mio effetto tranquillamente. Cancello anche la mia clip tranquillamente perché ne devo, vuoi usare un'altra per farvi vedere che l'effetto viene applicato su qualsiasi clip alla lunghezza che vogliamo. Quindi andiamo a prendere un'altra cosa, prendiamo questa montagna e andiamo adesso a scegliere la lunghezza del mio effetto. Quanto voglio farlo durare. Io lo farò durare un pochettino per farvi vedere, ovviamente, come, per chiarezza, di come vanno, ovviamente, diciamo, inseriti. Vado qui, ok, e taglio la mia clip. Vado all'interno, potrei già inserirlo, ma non lo faccio perché devo prendere un'altra clip. E ando a prendere una signora, questa qua. A questo punto cosa devo fare? Devo avere, ovviamente, la stessa misura, ok, per l'effetto della clip che viene dopo. Quindi vado qua, duplico questo pezzettino che ho tagliato, lo vado a mettere sopra la clip qua. Ragazzi, queste cose già viste, abbiamo già viste in altri tutorial, ma è sempre la stessa cosa. Taglio la clip e a questo punto ho le due misure uguali. Bene, una volta tagliate le clip, posso andare a inserire l'effetto che trovo qui nei preset, vedete? Eccolo qua, in, e metto l'effetto in. E in questa, invece, quest'altro pezzetto di clip, ci vado a mettere l'effetto out. Perfetto. Adesso, però, voglio vedere se posso spostare il punto da dove inizia il mio effetto. Vi ricordate, no? Lo spostamento del centro. Allora, diamo un po' a vedere. Io vorrei fare partire il mio effetto dalla montagnetta che c'è. Quindi cosa faccio? Prendo questo e lo vado a spostare. Certo che quando vado adesso alla fine, il mio effetto si troverà, ovviamente, al punto che c'era prima, giusto, nella mia animazione. Quindi cosa faccio? Lo prendo e lo risposto, se vado a capire dov'è, nella montagna, dove l'ho messo adesso, dove l'ho cambiato. Quindi vado indietro, adesso vado indietro. E tutto dovrebbe spostarsi correttamente. Adesso vado a fare la stessa cosa qui sulla signorina. Perché? Non so, dico, dove voglio far partire questo effetto? Voglio farlo partire dall'occhio della signorina, ok? Quindi vado qui, prendo questo e vado sull'occhio della signorina. Vado alla fine. Vedete? È già posizionato qui, ok? Posso anche far così, spostarlo così, ma intanto ci ho messo, mentre lo zoom aumenta a zero e non ha effetto. Quindi, ora, se vado indietro, vedete che io ho anche un pitch to zoom, perché mi muovo e mi sposto. Aspettate che certe volte non fa. Ok, vedete? Quindi io vedete che torno dall'occhio, ok? È molto interessante questo, è molto interessante. Adesso a questo punto possiamo ovviamente concludere il tutto aggiungendo un effettino, giusto? Di qualcosa del genere. In base alla durata del mio effetto, vedete, questo è un effetto che durerà non so quanti secondi, ovviamente mettici un effetto audio che sia pari, pari. Quindi vado sempre in Storyblocks, potete ovviamente attingere dove più vi aggrada. Io vado qui, vado in effetti sonori e cercherò un effettino che mi faccia una specie di swipe. Vediamo se ce n'è uno già pronto qui, se questo qua non sia un po' lentino. Eh sì, ho capito. Questo è un po' lentino. Questo è lentino. Questo è troppo, è troppo, è troppo basso di volume. Quindi o lo cerchiamo così o ci mettiamo un... Ecco, questo qua. Guardate un po' come questo, vediamo un po'. Lo mettiamo al centro, ok? Al centro e sentiamo un po' che succede. Ecco. Ragazzi, avete capito come poi alla fine è abbastanza semplice creare questi effetti. Bene, cari amici, amici e parenti, abbiamo visto come fare lo zoom, molto semplice, ma potete ovviamente sperimentare e se volete acquistarli andate sul sito lumafusionitalia.it o lumafusion.it. I prese già pronti, con tanto di istruzioni e progetto completo. Ovviamente vi potete farveli guardando il tutorial senza problemi. Però sostenete un po' il mio canale e ovviamente mi incentivate ad andare avanti, che è un po' come gli applausi per un cantante, diciamola così. Ovviamente vi invito a iscrivervi, vedo quel 75% che guarda ma non si iscrive. Ragazzi, iscrivetevi, cosa vi costa? Se guardate iscrivetevi, è un ditino su un pulsantino, ma anche senza campanella, non importa. Io, l'importante è che vi amo tutti e ve lo devo dire, vi voglio bene a tutti uno per uno, perché siete splendidi, spettacolari nei commenti. Una cosa veramente, certe volte mi commuovete e forse mi date un po' anche troppa fiducia. Però io di questo sono contento e questo è l'incentivo. A parte l'R50 che era veramente uno scherzo, dire che è un applauso, l'applauso vero, sono i commenti e gli iscritti, perché come un cantante è come un uomo di spettacolo. Però vi invito ovviamente ad andare sul sito ed acquistare, ovviamente, se volete i tutorial che sono gli stessi di questo che ci sono su YouTube, tanto per ovviamente farvi andare avanti e portarvi sempre contenuti di qualità, spero, su questo canale. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi abbraccio a tutti uno per uno, alla prossima. Grazie a tutti.